Novità in merito allo sbarco. È importante che tutti quanti voi italiani sappiate cosa hanno detto i militari della Capitaneria di Porto di Crotone. Il comandante, che è una persona lucida, un comandante, un militare, ascoltate le parole seguenti e testuali. Noi le nostre motovedette stanno in mare anche quando c'è l'acqua Forza 8. L'acqua era Forza 4. Noi eseguiamo gli ordini. Premesso che l'ordine, come dico io, possa essere sbagliato perché abbiamo visto 100 morti a 10 metri dal bagno asciuga. Ma io quello che vi voglio ricordare, amici miei, che oggi è toccato ai migranti. Due anni fa è toccato a 240.000 dei vostri nonni in Lombardia. Col modello Speranza, che ha preso gli anziani con la febbre o febbricitanti, e piuttosto che tenerli a casa, al caldo, con aspirina, li ha messi in fila in un'ambulanza, davanti di pronto soccorso al predo in attesa di essere intubati. Io non dimentico.